Eccoci insieme ancora una volta. Abbiamo il piacere di avere ospite Simone Toffanin, attore e regista, promotore nonché protagonista dell'appuntamento che caratterizza quest'anno la rassegna di Cittadella Teatro. Ed è un appuntamento, anzi quattro appuntamenti, dedicati ad Angelo Beovico, detto il Ruzzante. Quindi insomma più che Simone Toffanin abbiamo quasi quasi studio Ruzzante, anche perché lui è di Pernumia e sembra che Pernumia sia nato in sommo. Sì, che sia nato Ruzzante, sì. Come dicevo non c'è proprio la prova scientifica, ma ormai tutti i ricercatori, gli studiosi di Ruzzante concordano sul fatto che Angelo Beovico sia nato nel mio paesino. Che così, quando ero piccolo, noi amici comunemente, un po' scherzosamente, ecco, chiamavamo Parmi Partì Pernumia. E questa località di nascita in qualche maniera viene riconosciuta anche negli scritti di Ruzzante? Sì, sì, sì. Allora per esempio nell'elogio, anzi nell'orazione al Cardinal Cornaro, Ruzzante fa una battuta e gli storici dicono che quella sia la stessa ammissione di Ruzzante alle sue origini, quando parlando dei letterati di Padova, cioè dei scagariei, ecco, dice che loro sono dottori, dottore, e lui è meglio, mi sommieio, perché so, tritore. E lo stemma araldico di Pernumia sono proprio le tre torri. Veniamo a parlare della rassegna di Cittadella. Quattro appuntamenti dedicati al Ruzzante con un progetto che è quasi un sequel teatrale. Sì, esattamente. Infatti vuole essere un viaggio, l'abbiamo soprannominato, un divertente viaggio all'interno del roerso mondo di Ruzzante. Cioè, noi cosa facciamo? Anche se in teoria in teatro non si dovrebbe mai fare, però noi spieghiamo anche Ruzzante, perché è indubbio che la lingua con cui lui ha scritto, il pavano, cioè il padovano del 1500, ormai è una lingua che, sicuramente una lingua morta, che nessuno più parla e molti pochi conoscono. E tuttavia ha una bellezza, ha una sonorità meravigliosa. Non sono soltanto io che lo dico, ma, insomma, Dario Fo, quando ha preso il premio Nobel, ha dato onore e lustro, anzi l'ha indicato come maestro Ruzzante. E in effetti è vero, anche i temi che tratta sono di un'attualità unica. E però, a volte, proprio questa distanza di 500 anni, ha bisogno di essere anche un pelino prima spiegata. E allora noi facciamo questo... Un pelino? Eh, sì, un po' spiegata. Diciamo, va spiegata. Va spiegata. E quindi noi, senza soluzione di continuità, un po' parliamo di Ruzzante, parliamo del suo mondo, parliamo anche delle cose che trascendono il suo mondo, che lui, c'è una volta, io ho letto un articolo che diceva, pochissimi viaggi, tutti nella terra veneta, qualche capatina a Ferrara, poi Venezia, Asolo, e tuttavia, quindi il contrario, per esempio, di un Francesco Petrarca che ha girato mezza Europa, o anche di Dante Alighieri, e tuttavia ho una profondità e una conoscenza europea. Proprio perché Ruzzante è precursore di tantissime cose, bisogna, nel Parlamento di Ruzzante che già era venuto a campo, lì viene tratteggiato per la prima volta in teatro la figura dell'antieroe, non smetto mai di ricordarlo. Ruzzante è in un'epoca in cui c'è ancora il mito delle armi, delle battaglie, del valore coraggioso, dell'eroe che ammazza e che prende il bottino. Ruzzante, con quest'opera, ad esempio, fa vedere una figura diversa dell'eroe, dice che l'eroe, riprendendosi tra l'altro, a un archiloco del V secolo a.C., quindi un lirico greco, lui dice che l'eroe è quello che porta a casa la pelle. Punto. Che in mezzo alla pazzia della guerra, dove tutti vogliono ammazzare, dove c'è un qualcosa che tu non riesci nemmeno a capire, che disumanizza, dice che l'importante è portare a casa la guerra. Poi lo fa in maniera molto divertente perché dice che hai talmente voglia di uscire da quell'inferno che anche se hai un mal di pancia, non ci stai a badare e corri dritto a nasconderti. E quindi attraverso queste cose, questa è una figura, per esempio, dell'antieroe, ma anche di modernità. Sto pensando al, ecco, il prologo della moscheta, che è E'genea sé che sempre si smaraveglia dei fatti d'altri. Adigo mo' chi cerca de' savere e intendere quello che fa i sovissini. Si capisce abbastanza. E' sembra veramente scritta ieri. E allora Ruzzante porta avanti anche questa filosofia dello snaturale, del parlare anche, del vestire e del vivere in maniera naturale. Ruzzante all'interno del mondo culturale del 1500 si contrapponeva un po' al Bembo, cioè mentre il Bembo e altri portavano avanti la teoria della unificazione linguistica, dell'Italia. Ruzzante invece era a favore di una regionalizzazione, ma tuttavia senza comunque dimenticare una lingua che unificasse tutti. Lui diceva che, giustamente, le cose potevano coesistere. Però non bisognava mai dimenticare è snaturale. Lui diceva, mi e son bon pavan, che sarebbe padovano, ecco, e siano cambierai la mia lingua par dosento fiorentineschi. E poi, vabbè, andava avanti, ecco. E allora noi cerchiamo in questo modo di parlare di Ruzzante, poi mettendo in scena anche dei passi famosi, facendo vedere anche la sua malizia, la sua capacità, la sua vis comica, perché non dimentichiamoci che Ruzzante attinge a piene mani da tutto il repertorio latino. Ha scritto la Piovana, ha scritto la Vaccari, ha scritto l'Anconitana, che sono dei rifacimenti di testi plautini. La prima messa in scena è il 3 di luglio. A cosa è dedicata e a cosa sono dedicati gli appuntamenti successivi? Allora, la prima è dedicata proprio allo snaturale. Cioè, si parlerà di tutte le teorie di Ruzzante sullo snaturale, sulle varie declinazioni, e in particolar modo ci concentreremo sulla Betia, che è una delle opere più famose. Esattamente. Il secondo appuntamento è invece dedicato alla pavanità, alla padovanità di Ruzzante e anche alla voglia e a questa capacità di ridere e di scherzare. Parleremo nello specifico della Piovana, ma anche della Vaccaria, e anche della Moschetta, che viene definita la macchina comica perfetta. Il terzo appuntamento invece centrerà, verterà sulla figura dell'anti-eroe e quindi sicuramente parleremo di vari passi in cui Ruzzante mette un po' la saggezza contadina perché un'altra frase celebre di Ruzzante è questa. Poca botta amassa un uomo. Ci vuole poco per ammazzare un uomo. Che è presente nella Moschetta, ma soprattutto l'argomento dell'anti-eroe viene trattato nel Parlamento di Ruzzante, che già era venuto a campo, che è altra pietra migliare. L'ultimo appuntamento invece lo dedichiamo a una cosa che a me è sempre piaciuta che è il Ruzzante pensiero attraverso le opere non prettamente teatrali come Le orazioni e Cardinal Cornaro, dove c'è quella bellissima parte dedicata all'elogio al Pavano, ma dove c'è anche per esempio nella seconda le sette leggi che Ruzzante propone al Cardinale per migliorare la vita nel contado e nelle città e soprattutto, dicevo prima, Ruzzante pensiero, i prologhi. I prologhi di Ruzzante io li ho sempre trovati meravigliosi, quasi proprio della tradizione aristofanea. Lui mette in campo il suo pensiero, anche un po' fregandosene di tutto quello che capiterà dopo, ma vuole parlare proprio al pubblico e quindi faremo una miscellanea di tutto questo. Prima l'abbiamo citato Dario Faux, il suo Gramlò secondo me aveva la straordinaria capacità attoriale di far capire, in realtà senza far capire ciò che uno diceva, però insomma si capiva la trama della rappresentazione. Ruzzante invece ha un testo, quanto è difficile per un attore del 2018 imparare quel Pavano? A sentirlo non è proprio semplice. No, lo so, lo so. Allora, forse sono la persona meno indicata, nel senso che io a otto anni, otto, nove anni, quando ho iniziato un po' a ragionare, a vedere, a guardarmi un po' attorno, ho detto, va bene, io abito qui, in questo paesino di... Non mi parlano tutti un po' a ragionare. No, 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 assolutamente, però, però, ho fatto una cosa molto simile a quella che fece un altro grande attore e regista, che è Gianfranco De Bosio, e avevo la fortuna di abitare vicino ad esempio ad Arquapetrarca, dove il dialetto era ancora, soprattutto negli anni 50, negli anni 60, ma ancora quando ero piccolino io, quindi negli anni 80, si sentivano delle inflessioni diverse. Mio padre, che era di Arquapetrarca, mi diceva sempre, quando vedeva le opere di Ruzzante, che gli sembrava di sentire i vecchi, quando era lui bambino, che parlavano. Quindi, insomma, è stato quasi facile. Ma per me sì, però mi rendo conto, cioè, bisogna abbandonarsi alle sonorità, perché io sono convinto che la lingua di Ruzzante, il pavano, sia realmente esistito, ma che Ruzzante ci abbia messo del suo, della sua creatività, in certi costrutti, in certe frasi, non soltanto da un punto di vista contenutistico, ma anche onomatopeico. E bisogna, quello che dico anche agli spettatori, per capire il pavano, lascia stare il significato, ascolta i suoni e guarda chi lo fa, le emozioni che ti passa. È sicuramente una lingua teatrale. È un'esperienza da provare. Quindi, dal 3 di luglio, Ruzzante a Cittadella, Cittadella provincia di Padova, nell'ambito di Cittadella Teatro, con noi abbiamo avuto Simone Toffanin, attore e regista, che delle quattro rappresentazioni sarà il protagonista, oltre che il curatore, insomma, dell'idea e del progetto dedicato ad Angelo Beolco. Detto il Ruzzante, da pernumia, come il nostro ospite. Grazie. A voi alla prossima. Grazie. 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 Grazie.